Ciao a tutti e bentornati per un nuovo video. Il video di oggi è un po' diverso dal solito perché voglio fare un calendario dell'avvento e ho pensato di farvi vedere come faccio. Allora, qui ci sono tutta una serie di scatoline, tipo 24 in realtà, perché la 25esima la devo fare, una fantastica cornice e carta scrap più aggegivari, adesso vi spiego esattamente cosa ho combinato. Dunque, nell'info box trovate tutti i file che vi faccio vedere. Allora, la cornice l'ho presa in un negozio qui in Inghilterra che è tipo, non un tutto a un euro ma poco ci manca, quindi l'ho pagata un paio di euro, secondo me la trovate facilmente anche da Tiger, questa è 30x30, ci sono i fermi ma non li metto perché tanto la tensione della tela non ci interessa, non dobbiamo dipingere. Le scatoline, allora, le potete comprare come scatole di fiammiferi e vi cerco il link e ve lo metto nell'info box, altrimenti trovate due serie di file nell'info box per le scatoline, quindi una con la scatolina singola e una invece con più scatoline insieme. Io l'ho stampate su carta da 160 grammi, ho provato anche con la carta da quella di Amazon, che è quella più scura e quella più chiara invece con i disegnini, che è quella dei cereali, che funzionavano bene, solo quella dei cereali, quella di Amazon non è troppo spessa, però quella dei cereali ha il problema che è colorata e non era facilissimo da sistemare. Ho provato anche con quella da carta normale, che era quella che avete visto poco fa dove facevo la prova che era più molle, avevo paura che non tenesse. Quindi il piano è tagliare lungo le linee rosse e piegare lungo le linee nere. Quello che sto facendo qui è in realtà stupido, ma nonostante ne abbia già montate 24, perché imparare? Perché in realtà è meglio prima piegare e poi tagliare, si fa molto meglio, perché sennò piegare quando ci sono i pezzi tagliati è un po' scomodo. Comunque io ho usato le guide che sono disegnate per piegarla. Dopodiché è semplicissimo, perché viene semplicemente assemblata e io ho usato la spillatrice per spillarla perché volevo essere sicura che non si muovesse e a volte la colla mi crea delle difficoltà. Quindi ho usato questo sistema. La scatola dei cereali ha un peso ideale per questa cosa, il problema è che appunto è stampata, quindi si intravede dentro la stampa. Se ne trovate una bianca con quel peso lì viene benissimo, altrimenti una carta tipo da 200 grammi funziona benissimo lo stesso e appunto i fogli quelli con 6 sopra sono stati pensati per se volete stamparla su una carta un po' più spessa. Se invece volete tagliarle da altre carte di recupero usate quello con una scatolina sola che vi fa da carta modello. Trovate anche questo file nell'info box e qui ci sono già gli interni delle scatoline. Sono già disegnati orientati sia in verticale che in orizzontale perché le scatoline saranno messe in entrambi i modi altrimenti il disegno veniva brutto. Quindi dovete semplicemente metterle dentro. Io non le incollo perché confido nel fatto che non si muovano e le appoggio semplicemente dentro. Altri file che trovate sono due con scritto boxes e back. Il primo che prendo in mano è boxes. Praticamente le ho già divisi su, sarebbe un 25x25 che ha lo spazio libero interno alla cornice. Però ho pensato che nessuno avesse una stampante a 3 o quasi a casa e quindi le ho già preparate su due a quattro. Quindi il piano è mettere quello sotto, poi tagliare il foglio sopra usando l'altra guida e semplicemente poi incollarlo e avremo il nostro calendario dell'avvento. Quindi passiamo alla fase di assemblaggio. Quindi praticamente per sistemare il tutto il foglio boxes, i due fogli vengono allineati in maniera che siano precisissimi. Attenzione, sono un macello. Quindi stampatele al 100% della dimensione senza bordi. Dopodiché mi limito semplicemente a scocciarli in modo che stiano fermi e li ritaglio per cercare appunto di farli diventare 25 anche in verticale perché in lunghezza saranno 29,7 come un foglio A4. Mi ho fatto un po' di prove, scusate la voce va e viene, per controllare appunto che fosse centrato e tutto e poi ho messo anche un pezzetto di scotch dietro perché almeno non si muoveva il pezzettino dietro di carta. Quindi una volta sistemato e facciamo una prova con le scatoline giusto per vedere che tutto ci sia. Sì, stare ci sta perché voi come sapete io le idee le ho ma poi le provo in diretta con voi. Quindi ho fatto tutta questa progettazione senza averlo mai fatto prima. Quindi ci saranno dei problemucci che vedremo in seguito. La me del passato non li sapeva, la me del futuro che registra il voiceover sì, quindi adesso poi li vedremo. Però si è risolta bene, vi garantisco che si è risolta bene. Quindi per attaccare il foglio dentro io sto usando del biadesivo perché avevo paura che la colla mi ammollasse il foglio, siccome non era un foglio di carta normale da 80 grammi, non ero molto sicura che avrebbe retto, quindi sto usando abbondante biadesivo e ho usato anche la pieghetta, che è quella che ho usato per piegare le scatoline e anche per stendere bene sulla tela perché la tela ha una superficie un po' irregolare. La pieghetta se non ce l'avete è sostituibile sia per piegare sia per fare questo lavoro tranquillamente con un righello, il dietro di un paio di forbici, insomma qualunque cosa che non taglie sia piatta e liscia. Quindi poi lo mettete dentro cercando di centrarlo il più possibile. Io non ho fatto un bellissimo lavoro ma il biadesivo funzionava molto bene e quindi è rimasto attaccato. Non è perfettamente centrato di lato, quindi ci sarà poi da stare un po' attenti più avanti sulle centrature. Però fin qui sembra funzionare il tutto, quindi adesso prendo la colla. Questa è una colla per legno, una colla vinilica, come va benissimo il vinavil o qualunque altra colla voi abbiate. Se avessi avuto del biadesivo molto molto forte di quello roll on probabilmente avrei usato quello, non ce l'ho nel dubbio, ho usato la colla e a questo punto le ho già attaccate tutte, tanto non aveva senso farvi vedere tutta la colla e questa era l'ultima. Quindi adesso si può procedere a mettere dentro, facciamo intanto, scusate, saltiamo un passaggio. Prima di tutto metteteci dei pesi sopra e fate asciugare la carta così, in modo tale che le scatoline si asciughino in posizione. Ho aggiunto tre fermettini che vedete sotto di cartoncino messi e arrotolati a caso, giusto per essere assolutamente sicura che le scatoline, quelle più in basso che non avevano niente che le sostenesse sotto, non cedessero in qualche modo. È proprio cartone di recupero. Adesso ho tagliato tutti gli interni e li sto semplicemente mettendo, come vedete quelli orizzontali in quelle orizzontali e quelli già disegnati per essere tagliati in verticale in verticale e effettivamente messi dentro stanno benissimo, non si piegano, non hanno problemi. Ho fatto anche il test di caduta, vedete? Non cade niente. Quindi funziona benissimo. Passando al davanti, ho preso il foglio back, ho attaccato esattamente come ho fatto prima i fogli insieme e poi li ho attaccati su il foglio. Per attaccarli sul foglio in maniera centrata, siccome il foglio è 30, ho misurato la distanza fra il lato e l'esterno della cornice, come vi faccio vedere qui col dito, ho dato due lati e da una parte è 3,2, dall'altra è 2,6, quindi evidentemente non è centrato. Ho riportato le stesse misure sul foglio e qui io ho fatto un grosso errore perché avrei dovuto invertirle le misure, nel senso che siccome il foglio poi viene ribaltato e infatti lo schema back è lo stesso di quello scritto boxes però è specchiato, quindi è l'opposto, in modo tale che quando appunto il foglio viene davanti, quello di carta da scrap viene girato, le scatoline siano centrate, avrei dovuto fare la stessa cosa con le misure che ho preso e invece non l'ho fatto e quindi quel foglio lì poi lo vedrete che l'ho buttato via ed è stato sostituito da un altro perché questo è quello che succede quando uno pensa a metà le cose e non le ha mai fatte prima. Detto questo però il punto è semplicemente adesso prendere e tagliare lungo i profili, ovviamente su tre lati, quindi proprio facendo delle finestrelle che è quello che ho fatto qui, quindi taglierino e righello. Righello io di solito uso quello di metallo per queste cose, non lo devo tagliare, che però era giù perché stiamo facendo il presepe, fai da te quindi altri lavori in corso, questo qui è un righello vecchio che uso solo per questa cosa perché se usate un righello buono ve lo dico, usare il taglierino ve lo danneggia, vi graffia la punta sicura, cioè il margine sicuramente quindi poi non avrete più un righello preciso, quindi io ne tengo uno brutto che è anche spezzato come potete vedere giusto per questo tipo di lavori. Qui io ero convinta di aver preso bene le misure perché ho provato a tirarlo su, mi sembrava che fosse centrato rispetto al dietro e invece no, mi sono resa conto che la cosa era miseramente fallita, quindi quello che ho fatto è stato appunto rendermi conto del problema. Se voi vi chiedete come mai le mie mani si muovono in questa maniera come se stessi parlando nel video è perché io tutta una serie di cose le avevo girate già parlando e spiegandovi. Poi quando sono arrivata a montare, cioè adesso, mi sono resa conto che questo video sarebbe durato tantissimo e quindi ho deciso che avrei rifatto questa cosa in maniera più intelligente, quindi semplicemente raccontandovi quello che avevo fatto a posteriori. Quindi se vedete le mani che si muovono in maniera totalmente indipendente dal video il punto è quello, però qui era il punto dove spiegavo la cavolata che avevo fatto e quindi come ho rimediato, quindi avevo ritagliato di nuovo un altro foglio, non avevo più un foglio tra l'altro con quel disegno lì, quindi ne ho preso un altro. È una collezione, se vi chiedete la carta scrapbooking che ho usato, è una collezione vecchissima di Natale che ho rimediato non so neanche più io quanti anni fa, ve la cerco della Docraft mi sembra, se trovo, insomma vi metto un link sotto, ma non so se la trovo ma se no, insomma, un'altra carta qualunque va bene, quindi dopodiché questa volta era venuto giusto, ho fatto le prove, qui infatti ho controllato una volta tagliati tutti e sì sono giusti adesso, quindi rimuovo lo scotch e il frontale è fatto, pronto, ce l'abbiamo. Quello che c'è da fare adesso ovviamente è decorare il frontale e per decorare il frontale l'ho fatto off camera perché ci ho messo un sacco a cercare pezzettini vari nella scatola delle robe di Natale e tutto il resto. Quello che ho usato sono tutti appunto pezzetti vari rimessi insieme e provati sopra. Per fare i numeri io ho usato un kit di fustelle che... ah, una cosa per volta, quello che sto facendo qui è fare attenzione perché tipo se usate degli oggetti pesanti, tipo in questo caso quella specie di candy cane e queste cosine qui, se le mettete sulla casellina fate in modo che non tocchino dove dovrebbe essere piegata, altrimenti poi si apre male. Quello che avete appena visto passare invece era il set di fustelle per la Big Shot che ho usato per tagliare i numeri perché non l'uso mai la Big Shot e ho pensato di usarla, ma va benissimo in qualunque kit di adesivi con i numeri quindi se avete una bella calligrafia e la carta appunto come questa molto lineare potete scriverlo voi, non c'è veramente bisogno né della Big Shot né delle fustelle. Tra le altre cose però, se voi volete usare le fustelle per la Big Shot e avete della carta adesiva, fatevi furbi, non fate come me e tagliate direttamente sulla carta adesiva perché in questo modo poi dopo è molto più semplice questa operazione che è quella dell'incollaggio che ovviamente ha richiesto una vita e mezzo. Io per incollarle ho usato una penna con la colla recuperata anni fa in una fiera, però si svita volendo e la posso riempire di nuovo di colla. È una colla appunto tipo la Vinavil e la spalmo con un pennellino per essere sicura che prenda bene. Non avevo purtroppo nessun biadesivo a roller, se no sicuramente avrei usato quello perché si faceva ben prima, che è questo complesso sistema di pennellini e colle, però devo dire che le cose si sono attaccate bene e stanno. Mentre per quella specie di badge tondo, quella spilletta che vedete lassù in alto, ecco lì, non l'ho attaccata con la colla e non mi vedrete neanche attaccarla perché l'ho attaccata quando ho finito il video, perché lì ho usato il biadesivo spessorato, quello alto tipo un paio di millimetri, messo sotto in modo tale che facesse pari, perché non è pari a una spilla che ho fatto io con un kit di quando ero bambina, quindi è tutto meno che una roba pari. Mentre tutti gli accessori che ci sono dentro, tutte le decorazioni varie, sono cose vecchissime che derivano da tipo uno swap di Natale che ho fatto tipo nel 2013, aggeggi vari, tipo questo qui era un set, non mi ricordo neanche se è di studio calico, che però avevo recuperato non so neanche dove, questo con le cosine un po' a rilievo. Altre cose sono veramente delle cose di Natale vecchissime sparse che non avevo mai usato e che ho pensato fosse il momento buono per riciclare, non fanno parte di un kit in particolare, non c'è un set di riferimento da darvi, però qualunque decorazione va bene, al contrario se avete già una carta molto decorata potete semplicemente mettere giù i numeri, anche semplici e neri. Adesso è il momento di riempirle, per riempirle io userò questi cioccolatini che avete visto, che erano stati comprati in tempi non sospetti pensando di ministri ai bambini per Halloween a dargli le caramelle, non è successo e quindi io userò quelle in realtà perché appunto c'è anche Alessio e lui di quello che vi faccio di resto non ne può fregare di meno. Però per voi vi faccio vedere come riempirlo con cose di cancelleria, scusate la scatola o scena dei cereali ma c'è un sacco di DIY in corso in questa casa. Dentro ci ho messo un po' di tutto, cose raccattate ovviamente su e giù per l'ufficio, sì l'ufficio, lo studio, per farvi vedere che anche se le scatoline sono piccoline perché sono tre centimetri e mezzo per cinque l'una, ci entrano un sacco di cose, quindi anche questo qui è un tampone per i timbri, c'è entrato, ho fatto il test adesso, quindi poi ci sono post-it, fermacampioni vari, questi qui li ho fatti io, vi lascio il link del video dove vi faccio vedere come farli, anche gli adesivini, altro link, altro video dove li abbiamo fatti insieme, gommine da cancellare, segnalibro, graffette simpatiche, insomma ho raccattato un po' di cose varie ed eventuali dall'ufficio, questo è un porta a rotola cavi delle cuffiette, quindi ci sono veramente tutta una serie di cose varie ed eventuali, incluso i personaggi della Lego, eccetera eccetera. Quindi adesso faccio vedere come lo riempio per farvi vedere che effettivamente c'entra un sacco di roba carina, le graffette queste qui le ho fatte io con graffetta, ciondolino di Aliexpress e colla a caldo, facilissimo, questo invece l'avevo fatto in un altro video che vi lascio qui anche quello se lo volete vedere su come fare i timbri, e poi appunto biscotti, decorazioni varie, qui sto usando un alberello di Natale che è carinissimo, il segnalibro, gli omini che rappresentano me e Alessio fatti al Lego Store, questo c'è entrato, preciso preciso, questi sono washi tape di Tiger, quindi c'entrano anche loro senza problemi, i suddetti aggeggini fatti con il recupero delle scatole dei fazzoletti, che era stato estremamente divertente, gli adesivi che abbiamo fatto insieme giusto settimana scorsa, o perlomeno nella mia testa abbiamo fatto insieme settimana scorsa, il tampone, post-it, graffette varie, altre graffette varie in tutte le forme fagge, questo qui voi se prendete una nappina e ci attaccate dietro un gancino di quelli da braccialetto, lo fate da soli facilmente, si attacca alle agende, è molto carino, o al cellulare, dove preferite, fantastici unicorni utilissimi, anche queste le ho fatte con lo stesso principio, queste graffette qui, quella non c'è entrata chiaramente, era enorme, queste sono sempre delle gomme da cancellare di quelle colorate, questi due portachiavi qui con scritto home and love con la nappina, le ho presi da Tiger una vita fa, quindi questo è quello che potete metterci per farlo a tema cancelleria, ed è un regalo carinissimo da fare alle amiche, se avete dei bambini che amano la cancelleria, potete ovviamente sostituire alcune cose dentro con dei bigliettini con delle attività da fare, con delle caramelle, dei cioccolatini, quello che vi pare, io per lo scopo per cui lo useremo noi, cioè mangiarlo, ci ho messo i cioccolatini, lo so, non sono più incartati, non sono più incartati perché fisicamente era impossibile che si chiudesse con le carte, prendiamo un sacco di posto, ma tanto lo mangiamo noi, non dovremmo morire, lo mangiamo in giù di un paio di settimane, sta giù in salotto, è freddo, non c'è problema, quindi adesso colla, vinilca, abbondante, lunghe bordi, nel mio caso attenti ai cioccolatini, nel vostro attenti a non vincolare il resto, quindi la spalmate molto 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 bene, cercando di coprire la maggior parte della superficie possibile, di metterla in maniera pari, abbondante, ma senza che sia troppa in un punto solo, se no vi fa le bolle, vi gonfia, vi ammolla la carta, non va bene, quindi spalmatela bene bene, dopodiché, una volta che è tutta spalmata, ci piazzate sopra il foglio con estrema precisione e vi consiglio spassionatamente di metterci di nuovo dei pesi e di lasciarlo asciugare tutta la notte, in modo tale che poi sia effettivamente a posto, perché se no rischiate che si asciughi in maniera non precisa, quindi quello che ho fatto io è stato appunto metterlo poi tutta la notte a asciugare, ho testato, stava su, non cadeva niente, perché non cada niente è importante che la cornice della vostra tela sia alta come le scatoline, mi raccomando interne, quindi mi raccomando quello fateci caso, la mia aveva un centimetro e mezzo, le mie scatoline sono un centimetro e mezzo, quindi adesso guardate com'è bello, non è bellissimo, non ho ancora listito il cammino per Natale, però intanto lui l'ho messo lì ed è bellissimo, io spero che questo video vi sia piaciuto, di avervi fatto vedere in una maniera semplice, ci ho messo circa un'ora e mezza per far tutto, per fare un calendario dell'avvento, che potete fare facilmente a casa con quello che avete senza dover diventare matti, o comunque con cose che si ordinano su Amazon a pochissimo, e spero che vi sia piaciuto, fatemelo sapere nei commenti, se lo fate ditemelo e ci vediamo presto, ciao!